Massimo impegno per la tutela dell'ambiente del territorio di Battipaglia e della Piana del Sele è quanto affermato dal Ministro per l'Ambiente Sergio Costa nella sua visita al Festival di Giffoni. Con lui il deputato del Movimento 5 Stelle Nicola Acunzo, che nei giorni scorsi aveva chiesto in Parlamento un osservatorio ambientale nel collegio che lo ha eletto, formalizzando la richiesta del dossier denominato Battipaglia, Piana del Sele. Con il Ministro per l'Ambiente, ha dichiarato Acunzo, ci stiamo coordinando per una visita a Battipaglia capofila di un territorio, quale quello della Piana del Sele, in cui la problematica ambientale richiede azioni concrete ed immediate. L'osservatorio ambientale vuole essere uno strumento per monitorare costantemente questo territorio una sorta di sentinella pronta ad individuare le situazioni inquinanti che influiscono sulla salute dei cittadini. Grazie a tutti.